La forfora è un disturbo molto frequente, si vede specialmente comparire durante i mesi autunnali e invernali ed è sostanzialmente un inestetismo. Talora si accompagna anche a dei sintomi soggettivi come ad esempio prurito che può essere più o meno intenso. Allora se noi vogliamo entrare nell'ambito dermatologico dobbiamo cambiare un po' la definizione e la forfora definirla quello che realmente è, cioè una dermatite, una dermatite che poi prende nome di seborroica perché coinvolge aree del nostro corpo, quindi quello capelluto ricche di ghiandole sebacee. Quindi quando noi abbiamo forfora durante l'autunno e l'inverno abbiamo sostanzialmente una dermatite seborroica, quindi usiamo due termini per indicare sostanzialmente la stessa cosa. Evidentemente la domanda che nasce è ma perché io ho la forfora? E la risposta sta perché io ho a livello cutaneo un equilibrio non perfetto tra microbioma, cioè flora batterica, micotica e secrezione sebacea, produzione di sudore, unitamente all'ambiente in cui vivo, quindi gli inquinanti, eccetera. Quindi un soggetto che ha la dermatite seborroica, cioè la forfora, deve col dermatologo ritrovare quell'equilibrio che tende invece a non esserci e ovviamente il dermatologo può come dire spiegare come questo si può ottenere. Il trattamento della dermatite seborroica deve essere un trattamento continuativo, cioè il miglioramento che io ottengo con alcuni suggerimenti che dà il dermatologo non vanno ritenuti essere dei trattamenti che portano a quella che si chiama guarigione, perché essendo un equilibrio che va ripristinato, l'equilibrio si perde se si smette di seguire la problematica. Quindi sostanzialmente bisogna col dermatologo stabilire la frequenza degli shampoo e la dermatite seborroica peggiora col diminuire della frequenza degli shampoo, quindi occorre utilizzare uno shampoo con una certa frequenza e magari inserire nello shampoo alcuni principi che possono regolare il microbioma cutaneo, quindi degli antisettici che possono essere sia rivolti ai batteri, ma più frequentemente anche ai lieviti, cioè ai funghi che vivono sul nostro cuoio capelluto. Detto questo, il più è fatto, ovviamente nei casi gravi o più gravi si devono ricorrere anche a delle scelte più importanti, allora si usano degli antinfiammatori topici perché la dermatite è troppo intensa e quindi per brevissimi periodi si può fare ricorso anche a topici con del cortisone che servono un po' a resettare il sistema per dare la possibilità poi ai prodotti che darà il dermatologo di mantenere lo stato di benessere durante il periodo atunale invernale. Quando arriverà poi la bella stagione, la primavera e l'estate, la dermatite tende a diminuire, a guarire tra virgolette da sola e allora in quel periodo non ci sarà necessità di fare alcuna cura. Ci sono poi altre situazioni in cui il cuoio capelluto desquama, quindi per patologie vere e proprie, oppure perché io uso prodotti che non sono adatti alla mia cute e quindi ho una desquamazione che possiamo chiamare furfuraccia, ma non è la forfora, non è la dermatite seborroica. Ci sono poi situazioni anche, come dicevo, di tipo patologico dove magari pazienti affetti da psoriasi oppure da dermatite atopica presentano un'intensa desquamazione del cuoio capelluto che noi definiamo forfora, ma ripeto non è forse il modo migliore per definire queste situazioni. In questi casi il dermatologo visitando il paziente, facendo gli esami del caso, può orientare la diagnosi e poi ovviamente stabilire qual è il trattamento più idoneo.